Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 6 marzo, noi ricordiamo Santa Coletta. Ascoltiamo. Nicolette Boile nacque a Corby, in Francia, il 13 gennaio 1381, da genitori avanti con gli anni. Suo padre è carpentiere presso un convento benedettino. Così Colette, diminutivo di Nicoletta, in onore di San Nicola di Bari, cui era attribuita la grazia della sua nascita, cresce respirando Dio. A nove anni, il Signore le affida quella che sarà la missione della sua vita, la riforma delle clarisse. Ma ci vorrà tempo. Intanto, Colette si prepara, esercitandosi nella carità e praticando la penitenza, facendo l'esperienza delle estasi e della rivelazione divina. Rimasta orfana a 18 anni, Colette viene affidata all'abate di Corby. Dopo una prima esperienza tra le volontarie dell'ospedale locale, poi tra le clarisse urbaniste e, infine, tra le benedettine, Colette è confusa sulla scelta di vita religiosa da intraprendere. Incontra quindi il francescano Padre Pinè e si convince a entrare nel terzo ordine. Passa da reclusa le giornate, tra la preghiera e la penitenza, e solo dopo una grande sofferenza spirituale capisce il disegno che Dio ha su di lei. Nel 1406, Colette riceve il velo delle clarisse da Benedetto XIII. Da qui inizia la sua profonda opera riformatrice dell'ordine, che altro non sarà se non un ritorno ai costumi più austeri delle origini, alla preghiera personale e comunitaria, alla vita penitenziale offerta per l'unità della Chiesa. Per alcuni anni vede fallire gli sforzi di riforma, e solo nel 1410 ha il suo primo monastero rinnovato a Besançon, seguito poi da altri sedici. La sua opera viene approvata dal ministro generale francescano e nel 1458 da Pio II. I monasteri collettini, così chiamati in suo onore, giunti fino a noi, sono circa 140, sparsi in tutto il mondo. Colette muore a Ghand nel 1447. Fu canonizzata da Papa Pio VII il 24 maggio 1807. Colette nasce in una famiglia che l'ha quando i genitori erano già un po' anzianotti. Pensiamo la madre aveva già 60 anni. Forse proprio per questo lei nasce malformata. Proprio il padre dirà una frase durissima da sentire per una bambina, ma per ognuno di noi. Il padre infatti rifiutava di essere il papà di una nana. Lei infatti eleverà questa preghiera al Signore, quella di... Lei diceva proprio queste parole. Rimanere piccola non mi disturba, purché io sia grande nel tuo paradiso, Signore. Tuttavia, se lo vuoi, per far piacere a mio padre, donami di crescere. Ecco, vedete, il suo cuore era già predisposto a quel disagio. A lei interessava un'altra grandezza. Ma pur di non vedere il padre rattristato, fa questa preghiera al Signore. Il Signore l'esodisce, tanto che diventerà alta, un metro e settantanove. Tanto ci sarebbe ancora da dire di questa santa, come va in giro per tanti monasteri a ricercare un'autenticità profonda per una vita di fede sempre più piena. Veramente possiamo dire tante cose, ma in questa preghiera c'è forse la ricchezza più grande. E io ve la ripropongo. Rimanere piccola non mi disturba, purché io sia grande nel tuo paradiso. Tuttavia, se lo vuoi, per far piacere a mio padre, donami di crescere. Allora, dei nostri tanti difetti, quelli che ci fanno sentire piccoli, forse, oggi possiamo fare veramente un'intenzione del genere. Per dire, Signore, gli accettiamo questi difetti. Purché poi, in realtà, nel Regno dei Cieli, noi possiamo essere tuoi figli belli, tuoi figli benedetti. Se proprio devi eliminare questi nostri difetti, fallo perché sono un peso per gli altri, perché è agli altri che danno fastidio. Ma io li accetto. E per trovare questa forza e questa fede, soprattutto, ci affidiamo a Santa Coletta e preghiamo per la sua intercessione. Santa Coletta, prega per noi.